Sì, molto brevemente il Movimento 5 Stelle voterà no a questa mozione perché a livello di giurisdizione insomma il Comune di Roma non c'entra nulla in questo processo e viene sicuramente dopo quello che fa lo Stato. Siamo parlato di rifugiati per i quali nel 1990 è stato fatto il trattato di Dublino tra 12 Paesi membri che rispetta la Convenzione di Ginevra e quindi il Comune non può iscrivere anagraficamente delle persone che vengono in questo Paese senza che sia prima espletata questa formalità. Quindi bisogna conoscere bene i dettagli di questo fenomeno per poter poi intervenire. Quindi quello che si chiede è assolutamente illegittimo. Poi c'è un fattore di riflessione che è quello appunto che prevedendo Dublino che il primo Paese aderente al trattato dove il rifugiato firma è quello dove il rifugiato tornerà sempre. Questo qui implica il fatto che le politiche determinate dai governi precedenti che hanno fatto dell'Italia un crocevia per tutta l'immigrazione verso l'Europa banalmente ha creato una distribuzione disuniforme dell'accoglienza dei rifugiati nel nostro Paese rispetto ad altri Paesi europei. Questo è stato segnalato da questo Governo più e più volte ma evidentemente non è ancora entrato nell'immaginario collettivo e deve essere un elemento di riflessione per tutti. Grazie.